La Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, in particolare i poliziotti della squadra mobile della Questura di Napoli, delle sezioni investigative del Servizio Centrale Operativo, dei commissariati Poticelli e Poggio Reale e di militari dei Nucleli Investigativi dei Carabinieri di Napoli e Torre Annunziata, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 31 destinatari ritenuti a vario titolo gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di numerosi episodi di detenzione illecita, tutti aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento dispone per 24 persone la custodia cautelare in caccia e per 7 gli arresti domiciliari. L'attività costituisce il seguito relativo alla materia degli stupefacenti ad un primo segmento già eseguito il 28 novembre 2022 in occasione di operazione di polizia giudiziaria svolta nei confronti di 66 destinatari gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso, estorsione e detenzione di armi. Il provvedimento è eseguito una misura cautelare risposta in serie di indagini preliminari avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.